Un agguato in piena regola, il ride messo a segno alle 21.30 di ieri sera nei pressi di una caffetteria tra via Irno e via Alfredo Capone a Salerno, raggiunto da quattro colpi di pistola Vincenzo Ventura, nipote di Ciro Donofrio, l'homo ucciso il 30 luglio del 2017 a Pastena. I colpi andati tutti a segno hanno ferito il giovane alle gambe, è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona da un'ambulanza del 118 dove è stato operato ed ora è controllato a vista dagli agenti. Intanto sul luogo della sparatoria sono intervenuti gli uomini della squadra mobile di Salerno e della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso e sentito le persone che hanno assistito a questa ennesima resa dei conti tra le due famiglie in guerra da anni per questioni legate allo spaccio di droga. Scaturite poi nell'omicidio di Ciro Donofrio, la vittima gambizzata Vincenzo Ventura era stata denunciata nei giorni scorsi da Gaetano Siniscalchi, il padre di Eugenio e Gennaro, entrambi accusati proprio del delitto Donofrio. Siniscalchi lo aveva incolpato di aver esploso un colpo d'arma da fuoco contro la portiera della sua auto. Il giorno dopo l'arresto di Eugenio, il maggiore dei suoi figli, nei confronti di Ventura e Carmine Donofrio era scattato il fermo che però non è stato convalidato dal GIP per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza e nessun riscontro oggettivo alle accuse rivolte loro da Gaetano Siniscalchi, ieri l'ennesima resa dei conti.